Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Wulong e in questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili della parte 6 di tutte le missioni che fanno parte della parte 6. Vi ricordo che sul canale trovate sia la parte 1 e 2, la parte 3, la parte 4 e la parte 5 con tutti i collezionabili, trovate tutti i video di tutti i livelli dove recuperiamo tutte le bandiere e trovate anche tutti i video relative a tutte le boss fight presenti nel gioco. Detto questo io molti collezionabili li ho già presi per cui quando li prenderò vi dirò che collezionabile c'è lì anche se non lo vedrete a schermo e poi in questo livello andremo a trovare un orsetto particolarmente imboscato. Quindi partiamo proprio da qui dall'inizio e facciamo questo percorso. Ho pulito il livello dai nemici, voi ovviamente state attenti, se decidete di correre correte forte perché qui è pieno di nemici, quindi state particolarmente attenti. Gli altri sono abbastanza veloci. Quello è uno shortcut per cui non prendetelo in considerazione. Andiamo di qua a destra, vi faccio vedere la strada senza shortcut ovviamente. E andiamo di qua. Perché? Fai così. Che nemico ci sarebbe? Illuminami. Dovrei aver arato tutti, però va bene. Andiamo di qua a sinistra. Saliamo da questa parte. E andiamo di qua. Attenzione al buco. E poi andiamo a sinistra. Potete girare... Girare? Potete tirare giù questo fascio di legni perché era uno shortcut. E poi sulla destra potrete aprire una porta che vi condurrà la seconda bandiera. Arriviamo qui ed esattamente in questo punto voi troverete un messaggio che io ovviamente ho già preso. Dopodiché andiamo avanti. Caliamo qui. E scendiamo qui sotto. Ora, l'orsetto si trova qua dietro e per raggiungerlo dobbiamo fare un giretto. Per cui vi consiglio di arare i nemici che ci sono sotto. Nel caso cadiate non correte rischi. Quindi prima picchiatele e poi magari tornate qui. E qui ci sarà l'orsetto. Come al solito, nutritelo. Poi da qui scendiamo. Attenzione a non cadere nel buco. Apriamo questa porta. E torniamo un attimino indietro da questa parte qui. E qui troverete un'essenza di vena di drago. Poi da qui. Andiamo a buttare anche qui sotto. Andiamo avanti, lì c'è il piccione. Fate stare tutti. Via, via, via. Arrivati qui. Fissate la bandiera. Che sarà la terza. E poi da qui, esattamente in questo punto, vicino a questo palo, voi troverete un messaggio. Poi da qui, mi sono dimenticata. Torniamo un attimo indietro perché dobbiamo recuperare una cicala dorata. Quindi andiamo di qua. Andiamo di qua. Non ci guardare. Non ci calcolate. Andiamo su. Stata di lusso. Esattamente. In questo punto, voi troverete una cicala dorata. E anch'io perché me l'avevo dimenticata. Ottimo. Poi. Torniamo di qua. E affrontate la prima delle due boss fight presenti in questo livello. Ci vediamo direttamente dopo questa boss fight. Una volta abbattuto il boss, andiamo avanti. I boss, anzi, perché sono due. Quindi. Coppia boss fight. Andiamo avanti. Qui giriamo a destra. Potete hissare l'altra bandiera. Arriviamo qui e qui ci sarà un messaggio. Poi da qui. Andiamo qui sulla destra. Andiamo qui sulla sinistra. Parliamo qua su. Andiamo qui sulla sinistra. Facciamo fuori il ricciolone. E qui troveremo una cicala dorata. Poi da qui. Torniamo indietro. Vostra. Lasciamoli stare. No, finita di niente. Facciamo finita di niente. Via via. Saltiamo tutti. E qui sopra troverete un cristallo di vena di drago. Che io ho già preso, ma vabbè. Missione attacco a V-Ciao. Da qui. Che è l'inizio della missione. Andiamo da questa parte. Continuiamo ad andare giù. Qui potete hissare la bandiera. Poi girate qui a sinistra. Ed esattamente in questo scrigno troverete l'essenza di vena di drago. Poi da qui. Usciamo. E proprio qui in quest'angolo troveremo il piccolo orsacchiotto. Tu vai giù che ci dai fastidio. Diamogli del cipo. Missione. Facciamo brillare le nostre armature. Sempre nella parte 5. Finché arrivate qui nei pressi della seconda bandiera. Proprio dove avete affrontato il coccodrillone e la sirenetta. In veste dark. Siamo proprio davanti al boss. Quindi qui ci dovete passare per forza di cose. Perché per arrivare dal boss dovete arrivare qui. Salite le scale. Andate di qua. Ancora su. E poi di qua. Saltate qui sopra. E qui troverete l'orsacchiotto. Quindi nutritelo come al solito. Missione. La battaglia decisiva di Guandu. Dall'inizio. Scendete. Ed esattamente qui davanti troverete un messaggio. Dopo aver raccolto il messaggio andiamo avanti. Ma che ci fa questo vivo? Scusa Gioine. Ma perché? Non ho capito. Avrei erato tutti io. Comunque fate piazza pulita. E' stata la bandiera. Poi facciamo questo giro. Accogliamo. Tutto il giro di qua. Qui state attenti che c'è un boss. Mini boss. Insomma vabbè. Perché? Chi è tutta sta gente? Dove sono i nemici? Andiamo da questa parte. Continuiamo. E arriviamo qui. E raccogliamo questo oggetto. E al suo interno ci sarà un messaggio. Poi da qui. Continuiamo ad andare avanti. E qui ci sarà una cicala dorata. Poi torniamo su. Andiamo di qua a sinistra. Anche perché a destra c'è satana. Non ci andate. Saliamo qui su. E qui in questo punto. Troverete un messaggio. Poi da qui. Andiamo su. Fissate la bandiera. E andiamo avanti. Speriamo sia la volta buona. E salta su sto cosmo. Mamma mia. Perché ultimamente ci si corrompono i falcomi niente. C'è il pc che forello. Sta tirando gli ultimi. Ma deve tirare ancora un po'. Perché costa troppo. Eh. Che pazienza. Non si può lavorare così. Poi andiamo di qua. Continuiamo. Facciamo tutto questo percorso. Andiamo di qua. Sulla destra. Scendiamo. Entriamo in questa casa. Apriamo la cassa. E all'interno troverete un'essenza di vena di drago. Dopo usciamo. E ci dirigiamo verso il boss. Quindi andiamo di qua. E che cosa? Ti incastri. Facciamo tutto questo giro. Giriamo di qua. Andiamo avanti. Ok. Una volta arrivati qui. Isciate la bandiera. Poi entrate. Ed affrontate il primo boss. Di questo livello. Dopo aver affrontato il primo boss. Vi farò vedere dove recuperare l'altro oggetto. Giovani. Tanto per cambiare è partito il microfono. Comunque una volta battuto il boss. Basterà andare dove sto andando io in questo momento. E troverete per prima una cicala dorata. E dopodiché potrete interagire con l'orsacchiotto. Dategli del cibo. E lo inserirete nella vostra collezione. Missione. Sigilio Cimero del Regno. Sempre nella parte 6. Siamo proprio a inizio missione. Apriamo la porta. E andiamo di qua. Faccio una corsa. Speriamo bene. Che non giare hanno brutto. Andiamo da questa parte. Andiamo. Qui qua. Titti buoni tutti. Uh. Prendiamo il drop in. Ah è buona sta missione. C'è nessuno. Tranquilli. Potete andare senza problemi. Eccolo qui l'orsacchiottino che si fa le passeggiate. Nutritelo per aggiungerlo alla vostra collezione. Giovani nella parte 6. Abbiamo trovato tutti i collezionabili disponibili. Arriverà a breve anche la parte 7. Con anche i collezionabili che troviamo nel villaggio. Nel nostro hub centrale. Vi ricordo che sul canale trovate tutte le altre parti. Con tutti gli altri collezionabili. Tutte le missioni con tutte le bandiere prese. E anche tutte le boss fight. Detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Lasciate un bel like. Commentate e condividete. Grazie mille per averci seguito. E alla prossima. Grazie mille per averci seguito.